Signore e signore e benvenuti al mio canale Siamo qui col pescare ragazzi Siamo a 317 karir mod Karir col pescare Questi sono gli acquisti ragazzi Ecco, ho detto che vi farò un po' vedere D'una Roma in prestito Abbiamo preso perchè è un bottierone questo Bizzarri, vabbè qui Mosaka Inzato, quella Shuttle Club Biragi è arrivato dall'Inter Prima che il gioco Appunto padre l'ha prodotto andato via Purtroppo È arrivato bene lì Ufficialmente dal Palermo Poi c'erano lasagna ragazzi Lasagna è una bestia Lasagna secondo me farà molto bene Dobbiamo un po' qualurtarlo È un grande giocatore Letizia è un terzino Secondo me uno dei più forti al mondo Uno dei più forti al mondo Gaetano Letizia Abbiamo preso Milos Minos il talismano Un gran centrocampista X Juventino La freccia serba L'abbiamo preso a manzalbero ragazzi In prestito E' la Juventus Quindi è tornato Un giocatore che Che è molto molto speciale L'abbiamo preso E qui c'è Il Libiano ragazzi Si Shradi Chiauri Shradi Vabbè qui a Catullo Mandato all'imprestito O'Connel Gran giocatore secondo me del Celtic Del Sole L'altro via E fa San anche del Celtic ragazzi Quindi Molto bene abbiamo collaborato Questo è un giocatore che abbiamo cercato Ma va bene così Io sono soddisfatto E direi di Iniziare le nostre prime partite Ok Prima partita ragazzi Sarà con Napoli Partita molto difficile Ma molto difficile Molto difficile Tutto pronto Sali di casa E' stadio 23 mai Tutto pronto Molto simile a quello dell'Adriatico C'è anche la pista Quindi è molto molto carina Qui La trasferita Lecchia Danzia Nino Scratic Per un giocatore E può essere prezioso Che cosa possiamo mettere E sarà che si capitano Della squadra Molto altissime Molto I chiave giocatore Ancora Accentola Vai Non andiamo Il tecnico Ha insistito Lasagna Bello Eccolo Gianluca Echino Mamma mia Grande Un'ultimo tocco del difensore Si ripartirà col corner Il giro di Gabbiadini Che ha provato a sopprendere il portiere d'alunno Alcian angolo per il Napoli Vai Mettina del secolo lì No mamma mia D'arbitro dice che può bastare 0-0 Finisce qua il primo tempo Tifosi ospiti certamente insoddisfatti Ma dentro Ma spazzata Palla che deve essere Letizia Letizia Madonna Grazie Letizia Già 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 Napoli Ne sta pressando Gera un parecchio tempo E si fa la nera C'è il gol C'è il gol del Napoli Va Ha segnato Milic Milic Proprio Il mio acquisto E per fare il portiere della luna Non una luna Decisamente non poteva farci nulla più nulla La regia ci mostra un gol Da un'altra inquadratura 1-0 Non c'è più gioco Non c'è più gioco Ragazzi Già c'è poco tempo E' finito Vinci a Napoli ragazzi Ci abbiamo provato fino all'ultimo La partita intesa Ci stavo già vero Ma va bene Ovviamente Manca tanta intesa C'è tanto da lavorare ancora Con i ragazzi Ecco Ma va bene Qui ragazzi Questa bella modalità Già da l'altro anno Si fa allenare i ragazzi Quindi Si può allenarli In modo volontario Oppure Solamente Simulare tutto Quindi Si può allenarli in prima persona Oppure simulare Ecco diciamo E Carina questa cosa Quindi i giocatori crescono Ehm Sia con l'aspetto Di valore Ehm Valore di denaro E valore appunto Del rating Ovviamente ecco Quindi Molto Molto È molto bella sta cosa Questo E' una Gran roba Io ovviamente Simulo Perché Altrimenti Mi romperei Abbastanza Ma Comunque È molto Molto bella St' modalità Che hanno fatto All'altra Mettiamo Letizia Simula Tutto E Vediamo Il voltage Ragazzi Migliore Crescenzi Peggiore Mandragola, Tirney e Letizia Vedete Ottimo, ottimo, ottimo E qui c'è il Sassuolo Ragazzi Seconda partita del campionato E andiamo E qui c'è il Sassuolo Ragazzi Gettiamo col Sassuolo Una partita Abbastanza difficile Secondo me Comunque il Sassuolo è una gran squadra E' quest'anno ragazzi Non dovete guardare Tutto pronto al Chrome Attenzione La cazzata del Sassuolo Ora per Ben Ali La prova a incrociare Vedete Un primo, primo gol del Pescara 2016-2017 Stagione Proprio Ahmad Ben Ali signori Ahmad Ben Ali 1-0 1-0 Il Libiano Noi abbiamo due Libiani E ha segnato Ben Ali 1-0 Magnanelli Attenzione al Sassuolo Goccio Attenzione Che ci fa fuori Donna Roma Caprari Prova lo scambio Bello Lo trovo Lasagna Anche se lo mangi Mi ha segnato Mi ha segnato Mi ha segnato Veramente Due passi Sicuramente Sempre più pericolosi Sempre più il palo Ragazzi Il palo Ti ha salvato il palo Ma l'arma mia il palo Fortissimo Non lo sassuolo Qui ha pressato La palla con il braggio La barriera Occe si è liberati Deviazione Donna Roma Il pochere della luna Ancora Tiki taka Alla ricerca del momento giusto E' per un tempo Finisce Buon zero Bene Va bene Così Con questo Un buon pallone Centrocampo C'è spazio Per andare Guarda come lo lasciamo Dai Dai Perchidiamolo Ecco No Traversa incredibile Incredibile Non è finita Donna Roma Mamma mia Sono giornalmente Ma Ha perfezionato Il suo passaggio Al buon Caprari Dai Non soppie A lui Bello Fa Bravo Dai Verrazioni Lasagna Manca Completamente Lo specchio Della porta Conclusione Alta Maglianelli Attenzione Missiloni Ci devo farlo Attenzione Duncan Non Di cazzarego Non Il pallone In rete E' stato Proprio Duncan Si 1-1 Meritatissimo Pareggio Del Sassuolo Che Come possiamo Ha fatto di più Ma per scala brutto Ragazzi C'è Siamo Nenamente male Così Tanti In ogni caso Proprio Male Magno Proprio Non siamo ancora Allo stesso Divento Non è soddisfatto Non è soddisfatto Mamma mia Mamma mia che buco Mamma mia che buco C'è un palco Non Di Berardi Berardi Perfetto Ottimo il pallone Filtrante Potrebbe essere Ma cos'è sto buco Cos'è sto buco Da Madonna Incredibile E' finita E' finita qua Vince il Pescara Inmeritato E' finita qua Non siamo soddisfatti Perché Sassuolo Poteva anche Vincerla Oggi E' qui è l'Inter Davanti alla porta Ragazzi Terza partita Gran partita Sarà questa E' scala Inter Vediamo come giochiamo Questa è partita E' se giochiamo Come Reggio Emilia Secondo me Oggi si perde Perché Se col Sassuolo Si è stato un c***o Proprio Oggi Oggi Siamo siccome la prestazione Davio Non so l'Inter Qui si perde Dai e Pescara Pescara Inter Dai Sono già in difficoltà Piero L'obiettivo stagionale Se non è melo 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 Che se ne va Come cavolo di pare Mamma mia C'è donna Lugia A salvare Lasagna Oh L'occasione della vita Per Pepe Ma da Ma da Sul calcio d'angolo Oh C'è Baneca La mette in mezzo C'è un Mario Donna Lugia Bravissimo Donna Lugia Bravo No Dai Come in generale di rigore Cosa ha fatto Qui la difesa Guarda Come stiamo a foot Mamma mia Ottima la chiusura Ma fine appena tempo Brutto Brutto Pescara Brutto Mamma mia E la palla Che termina fuori Per un niente Ancora l'Inter Io Mario Ancora Donna Rumma Incredibile Ragazzi Vai Troviamo In contropiede Vai qualcosa Niente 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 È brutto Pescara Dai Mamma mia È finita È finita 0-0 Un punto rubato Secondo di oggi Ci abbiamo L'acqua Le due Palle Gol Tre Palle Quattro Cinque Gol Per l'Inter Ragazzi È bisogna migliorare Perché altrimenti Quei punti Non ci arriveranno Dopo si rischia Tanto di retoccedere Ma Il mio obiettivo Non è retoccedere Il mio obiettivo È arrivare Al top Al top Cinque Però con questo Gioco C'è Molto Molto Mare Lavorare